70 migliori ristoranti con pizzeria nel mondo e questo il titolo dell'evento a cui lo scorso 28 giugno nella prestigiosa terrazza degli aranci del ristorante La Pergola dello chef stellato Heinz Beck ha partecipato Marika Casella, figlia di Ciro Casella, proprietaria insieme a suo fratello Fabio del San Matteo Pizza Espresso Bar a New York, che si è classificato tra i migliori 70 ristoranti al mondo. L'iniziativa premia i ristoranti nel mondo che costantemente promuovono l'immagine della gastronomia italiana, cucina e pizza, un binomio vincente che Ristorazione Italiana Magazine per la prima volta in assoluto celebra con un esclusivo premio internazionale. Sarà proprio il San Matteo Pizza Espresso Bar di Ciro e Fabio Casella ad ospitare i Sapori del Sole, produzione di Goi Comunicare con la conduzione di Mario Rosaria Sica il prossimo settembre. Un evento dedicato alla celebrazione delle 100 puntate del fortunato format televisivo in onda sul canale tematico Alice TV, coronato dalla presentazione del ricettario, che tra le tante eccellenze vede protagoniste anche le pizze del San Matteo dei Fratelli Casella.